Non ricordo di aver sentito Amber il 24 maggio, corretto? Non ricordo cosa ho mangiato per colazione, figurati. Che tipo di make-up indossava il signor in Amber? Oh, non posso sapere cose del genere, non me ne intendo assolutamente. Che domande sono? Mi può dire se Amber ea indossava un rossetto in quel video? Mi può dire se Amber ea indossava della cipria in qualsiasi di quei video? Ma era amicchievole con lei tutte quelle volte? Sì, sì, era simpatica. Ma lei non stava cercando un gonfiore o fitte sulla faccia quella notte, vero? No, non stavo cercando nulla. Però qualcosa del genere sarebbe davvero evidente. Immagino che tu guardando una persona, soprattutto con il mio lavoro che li vedevo spesso, avrei visto se c'era qualcosa che non andava. Comunque la mia preoccupazione era andare a cercare il cagnolino di Reckle che era uscito. A me hanno chiamato che c'erano dei graffi sulla loro porta e c'era un cagnolino che stava cercando di entrare e stava grattando la porta d'ingresso di un appartamento. Il cane stava graffiando la porta e cercava di entrare e hanno pensato che qualcuno volesse entrare nella loro unità. Comunque io non stavo guardando segni di o altro. Io mi ero concentrato più che altro sul fatto dei cagnolini e sui miei doveri di lavoro. Che era ottenere la chiave per entrare perché dissero che il cane di Reckle era uscito, sapevo che il cane di Reckle era uscito dalla sua unità e quindi una delle mie preoccupazioni era quello di andare a prendere questo cane, non di guardare la sua faccia. Mi stavano dicendo che qualcuno stava cercando di entrare nella loro unità, che c'era un graffi sulla porta e io pensai, ma perché il cane stava graffiando la porta e voleva entrare e hanno pensato loro che qualcuno volesse entrare nella loro unità. Ma io ho detto nella mia testa, ma davvero tu pensi che qualcuno stia cercando di entrare nella tua unità? Grattando 10 centimetri sopra la porta era il cane che cercava di entrare e avevano così paura che qualcuno volesse entrare là, davvero. E mi hanno chiesto di entrare là per controllare la stanza e assicurarsi che non ci fosse nessuno. Quindi io l'ho fatto come parte del mio lavoro, assicurandomi che fossero al sicuro. Ma davvero non capivo perché. Scusate, sono così stressato per questa storia e non vorrei più occuparmi, ne sono stanco. Vorrei solo occuparmi del mio lavoro. Tutti hanno dei problemi e vogliono che io glieli risolva. Ricorda che acconciatura aveva la signora Inamber quella notte? No. Sa che tipo di trucco indossava quella notte? No. Puoi dirmi se indossava il correttore e il fondotinta? No. Potrebbe dirmi se indossava il farda? No. Puoi dirmi se indossava qualsiasi tipo di trucco per gli occhi? Se Miss E.R. avesse avuto qualcosa, l'avrei visto, me lo ricorderai. Perché è qualcosa che vedrai davanti a te. Ma quando ero lì a parlare con lei, ero a un metro da lei, proprio di fronte a me, non ricordo di aver visto segni di qualcosa del genere. Ma non so se si stava truccando per coprirlo, vero? No, no, indossava del trucco. Magari per coprirlo, probabilmente, non lo so. Un'ultima domanda. Lei garantisce che oggi ha testimoniato tutta la verità nelle domande che le ho fatto io, vero? Sì, sì, è corretto. Le mie risposte sono state tutto quello che sapevo. Ok, era il primo caso. Sono abituato a casi del genere, ma questo era un po' bizzarro. Vostro onore, non sapevo che stava guidando, comunque. Ok, torneremo qui dopo la pausa pranzo. Grazie. Grazie.